Mi sarei aspettato anche in virtù dell'avversario un po' più di coraggio, un po' più di spregiudicatezza da parte del nostro allenatore e di essere forse meno prudente dalla formazione iniziale. Tra l'altro mister Nicola in questi minuti è proprio in conferenza stampa quindi vedremo anche quello che dirà i giornalisti attraverso Cristian Siciliani, magari ci collegheremo tra poco anche se abbiamo saputo che è un mister non soddisfatto di questa partita nonostante il tentativo dei suoi ragazzi di creare gioco e di creare come dicevi tu superiorità numerica però non è stato soddisfatto dalla prestazione. Ma non è facile, ripeto quando vengono queste squadre tra virgolette dico piccole a Bari è normale che troveremo squadre come abbiamo già trovato in passato che verranno qui per difendersi 9 uomini dietro 10 spesso dietro la linea della palla e diventa difficile per chiunque, per qualsiasi squadra creare situazioni limpide o situazioni per liberare facilmente al tiro qualità. L'abbiamo visto in passato sia nella vecchia gestione che in questa nuova gestione, però ancora una volta ribadisco, a volte devi osare un po' di più se vuoi provare a vincere, osare prima, rischiare forse qualcosina in più. E' vero che oggi non abbiamo, come diceva l'ultimo amico, non abbiamo subito alcun tiro in porta, a parte che è il primo controbetso del primo tempo, non abbiamo subito il tiro in porta ma è molto rischioso. Detto questo, sì, è stato in operoso, l'ho detto anche prima, Donnarumma è stato in operoso quest'oggi, però a maggior ragione con squadre così che è quasi scritto che adotteranno un comportamento del genere, oppure osare con qualche cosina in più lì in mezzo, lì davanti, te lo puoi concedere perché ripeto, quando verrà a giocare qui il Bologna o un'altra grande, che giochiamo con una sola punta e... Eh no, anche se, mister Nicola, sempre arrivano voci di corridoio da Via Torrebella, ci dicono che insomma chiede tempo per la coppia Caputo e Bagua, quindi di dare tempo come ovviamente era ovvio. Fin da conto questi qui sono arrivati da quattro giorni, tre giorni, insomma si sono allenati tre giorni, quattro giorni con la squadra, quindi sarebbe anche sin troppo pretenzioso da parte nostra vedere già chissà quali stracieli. Però oggi Bagua, insomma, ci ha provato in più di una circostanza, è stato anche sufficientemente pericoloso per essere la prima partita e perché, insomma, non è che abbia avuto chissà, non c'ha tutti i minuti, non è brillantissimo, sia il suo fisico ma anche perché non è stato impiegato spesso e volentieri. Nello spezia, quindi dovrà recuperare anche dal punto di vista fisico sicuramente e di autonomia. Sì, ma più che autonomia, brillantezza, perché l'autonomia magari ce l'ha, però non è brillante, negli ultimi minuti era un po' appesantito, ma il suo fisico già tra l'altro è possente, quindi non è come Scattarella che è più brevilinio e tre allenamenti ed è a posto, c'ha già i 90 minuti. Insomma, quei giocatori che hanno quel tipo di fisico devono giocare sempre perché se no diventa dura farli entrare in condizioni. Abbiamo un altro telespettatore in linea, pronto, buon pomeriggio. Ciao Barbara, sono Dante da Bari, saluto il signor Guastella. Buonasera. Ciao Dante. Dunque, per quanto riguarda il Bari oggi sembrava una squadra anonima, anche perché poi vorrei ricordare allo spettatore che hai chiamato prima, che Lentela al primo tempo è stato pericoloso per ben due volte e ha sbagliato due gol, una con il colpo di tacco e l'altra su calcio d'angolo. E poi il Bari, mi sembra una squadra di basket, non ha una fissionomia, grazie. Grazie per il tuo intervento Salvatore. Io ricordo soltanto una palla gol di Batocchio, se non erro, verso la fine del primo tempo. Sì, ma il discorso, sì, ma l'abbiamo detto, Lentela seppur nella sua pochezza in attacco non si è mai affacciata, ripeto, Donnarumma senza voto, se vogliamo, se dovessi fare io i giudizi su un giornale direi senza voto. Voto senza voto. Sì, perché non è stato mai chiamato in causa, ma detto questo... Sei d'accordo sul fatto che il Bari fosse una squadra senza identità a quest'oggi? Allora, ripeto, tu a volte vedi delle azioni in campo, te ne accorgi, per chi, ormai quasi tutti, per chi vede calcio, c'è una partita tutti i giorni in qualche posto, ti rendi conto che è frutto di uno schema, ti rendi conto che è frutto di un movimento studiato, preparato? Purtroppo, devo dire che in questo Bari, di quest'oggi, non ne ho visto uno. Una sola volta non ho visto una. Se non, ripeto, quella palla calciata sulla nostra punta che la spizza per il compagno di reparto e con la squadra che dovrebbe accorciare e fare pressing di davanti. Ma è troppo poco, cioè, questo è veramente troppo poco. Troppo poco è troppo semplice, troppo prevedibile. Non ho visto movimenti, non ho visto azioni, ripeto, non ho visto schemi, compreseli di quei due o tre calci da fermo che abbiamo avuto, che riescono e sono frutto di prove, di uno schema ben preciso, fatto durante la settimana. Io non li ho individuati, non voglio dire che se non li ho visti io non esistono, però non sono riuscito ad individuarne uno oggi. Ma se torno indietro non è che ne ho visti tanti, purtroppo. Mentre in qualche circostanza, qualche squadra, vedi che ci sono dei movimenti, vengono ripetuti e vengono nel corso, nell'arco della gara, e quindi capisci che sono schemi preparati e studiati. Quindi mi auguro di, quando si dice che quella squadra ha un'identità ben precisa, ha un comportamento ben preciso, per quanto mi riguarda mi riferisco a questo, cioè vedi delle azioni in campo con l'avversario, seppur con l'avversario, che però sono frutto di studi settimanali, di prove settimanali, di schemi. Posto che c'è sempre bisogno di un'interpretazione di gioco immediata. Certo, e lo vedi, e lo vedi. Purtroppo in questo bari stento a vederli, anzi fino adesso l'ho visti pochissime volte. Abbiamo un altro telespettatore in linea, pronto, buon pomeriggio. Buonasera Barbara. Buonasera. Saluto Salvatore, sono Gennaro Baffone del gruppo Baffone. Ciao. Buonasera. Buonasera, ciao Salvatore. Purtroppo ho trovato, parlando e parlando, stiamo ancora facendo degli esperimenti, ma io non lo so, questi esperimenti servivano? Il bari aveva la sua telaiatura, perché fare questi esperimenti? Io non lo so. Avevamo già una squadra, avevamo già una squadra. Ma se ti riferisci a stessa stessa, sì, credo si riferisca a quello. Sì, ma questa distastata, Gennaro, non ci possiamo tornare più, è latte non versato. E se la sono bevuti tutti, gatti. Eh, lo so, ma guarda, oggi abbiamo fatto un altro passo indietro. Eh, ma c'erano due giocatori nuovi. E non lo tirava in porta. Vedere una squadra che non faceva gioco, io non lo so. Guarda, l'entela oggi, ti faceva il gol, ti diceva la partita una e l'era di nuovo. Meno male che non l'ha fatto. Meno male che non è successo. Grazie mille innanzitutto, Gennaro, per il tuo intervento. Voglio dire, grazie mille, meno male, voglio dire. Sì, 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 ma senza roba di dubbi. Cioè, voglio dire, sono contento che, ripeto, Donnarumma è rimasta inviolata. Facciamo così, facciamo che Donnarumma è sempre senza voto e già va bene. Allora, quello è un punto. Poi facciamo che il passato è passato, ora tornare a pensare a quest'estate. Ormai significa continuarsi a farsi del male per una cosa, una ricenda che purtroppo sappiamo ormai com'è andata ed è impossibile rimediare. Anche se un ritorno di Polenta, insomma, sarebbe a significare anche un grande errore. Significa ambettere per chi fece quella scelta quest'estate che è stata una scelta sbagliata e che probabilmente non era attribuibile alla società. Perché la società se lo sta cercando fortemente vuol dire che non era una sua scelta di non confermare Polenta. E c'è anche la volontà del giocatore di voler tornare. Evidentemente è stata una scelta tecnica operata da chi, non lo so, ma da qualcuno che è all'interno della società, ma non la presidenza. Ecco, per dirla chiaramente, quindi o il direttore sportivo o l'allenatore che c'era prima avevano scelto di non avvalersi della permanenza di Polenta qui. Però non ci pensiamo più, dobbiamo fare i conti con quello che abbiamo e con quello che possiamo avere. Cioè significa i giocatori che attualmente fanno parte della rosa e quelli che possibilmente possono essere raggiungibili da questa parentesi di mercato. Se dovesse ritornare Polenta sono felice io per lui e per tutti i tifosi che lo volevano, ma io per prima. Tra l'altro rientrerebbe nell'idea di gioco di Nicola, l'ha affermato anche lui. Certo, ma ripeto... È un giocatore che servirebbe effettivamente oggi. Tra l'altro sì, ma senza ombra di dubbio servirebbe in questo tipo di gioco. Cioè i piedi buoni, è forte fisicamente, ma adesso Polenta non devo descrivere le qualità, lo sappiamo. Il punto è che però, mi aggiungo a quello che ha detto ancora una volta Davide, oggi lo sto copiando, l'ha tanzi parecchio, cioè che tu puoi prendere pure tutti i migliori possibili, immaginabili. Ma poi gli devi dare un'identità ben precisa. Non ti puoi affidare solo alle loro capacità individuali e basta. E no, anche perché non si parla del singolo ma di un gruppo, ovviamente. Eh sì, perché sennò il concetto di squadra che tanto fortemente crede Nicola viene meno. Esattamente. Il gruppo deve essere non solo unito e forte e coeso nell'allenarsi, nel seguire l'allenatore, ma deve anche essere tale, anche dal punto di vista del gioco. Il gioco sta latita da un bel po'. Abbiamo un altro telespettatore Lini, è pronto, buon pomeriggio. Buonasera, buonasera, saluto Guastella, saluto tutti. Senta, è vero che quello che è passato non gli torna più l'alto e è versato, però devo dire che Nicola non vede assolutamente il gioco delle fasce. Allora, è vero, Galano lo vogliono vendere, ma chi salta l'uomo? L'ha detto bene lei prima Guastella, ma il problema è questo. Galano, fino a che non abbiamo altre telattive, deve giocare. Le fasce sono deserte, ci fu un po' dei fendi che secondo me sono stati migliori in campo, perché ha lavorato e ha corso da fatto chilometri. Non ho capito poi la sostituzione di Romizzi con Donati, ma ripeto, la squadra si chiude in un imbuto. Ditemi voi, se il gioco delle fasce deve essere abbandonato, il calcio è fatto su un campo che è lungo i 100 metri, per 35 quant'è la larghezza. 60, 50, 60. Grazie per il suo intervento. Perché le fasce non vengono utilizzate. Grazie per il suo intervento. Abbiamo abbondantemente risposto a questo Salvatore, quindi direi di cedere la linea al San Nicola, Cristian Siciliani e Denzo Tamborra. Sì, Barbara, chiederei subito a Denzo un commento a quelle che sono state le dichiarazioni di Davide Nicola poco fa in conferenza stampa. ha detto che è stata la migliore partita del Bari per impegno e applicazione. Io non lo so perché non sono un tecnico e quindi non ho la capacità dell'allenatore di interpretare la prestazione del Bari. Devo dire però che se questa è la migliore prestazione del Bari e se questo è il livello del gioco del Bari credo che dovremo rassegnarci a un campionato di questo tipo. Cioè un campionato di medio-basso livello. Perché, come dire, i fatti dicono che non siamo stati capaci oggi di battere neppure Lentella. E tutto sommato, al di là di qualche fiammata finale del possibile calcio di rigore, Lentella non è apparso assolutamente inferiore al Bari. Ce la siamo giocata alla pari nel primo tempo. Forse le occasioni migliori le hanno avute addirittura i Liguri. Ascoltavo prima con interesse quello che diceva Salvatore Guastella i cui giudizi spesso coincidono con i miei. Cioè, qui manca proprio il gioco di squadra. Cioè non vedo un gioco corale. Vedo sprazzi, iniziative individuali. E Bagua che prende il pallone, si fa 20-30 metri e prova a tirare in porta. E basta. Qualcosa si è visto paradossalmente quando sono entrati in campo quelli che dovrebbero andare via. E questo è un altro punto di riflessione. Perché a mio avviso il Bari è migliorato con gli ingressi in campo di Galano da una parte ed è Luca dall'altra. E devo dire che se Bagua ha dato il meglio di sé quando non c'era Caputo evidentemente la convivenza tra Bagua e Caputo fermo restando che si sono appena conosciuti e quindi non possiamo neanche essere troppo frettolosi nei giudizi però la convivenza tra Bagua e Caputo potrebbe essere difficile. Cioè probabilmente Bagua ha bisogno di più spazio e i due alla lunga potrebbero pestarsi i piedi. Fermo restando che il giudizio è provvisorio però legato a questa partita la sensazione è che e Bagua e Caputo si siano poi pestati i piedi oggi che non abbiano proprio avuto la capacità di dialogare fra loro e anzi uno ha danneggiato l'altro. A proposito di Galano lo stesso Nicola ha detto io devo puntare su delle certezze in questo momento Cristian mi ha chiaramente detto che vuole andare via da Bari. Tu sai come la penso? Io l'ho anche detto in trasmissione la scorsa settimana. Cioè per me i migliori acquisti del Bari sarebbero il vero Galano il vero Schaudone lasciarli andare via è una sconfitta è un danno per questa squadra perché Galano è in assoluto uno dei migliori giocatori dal punto di vista tecnico del campionato di Serie B. Cioè non si deve pensare che perché arriva l'ultimo arrivato le bagua di turno lo schiattarella noi ci potenziamo miglioriamo. Noi nel frattempo perdiamo dei pezzi pregiati della squadra. Ciao.